Tra tre porti e cavallino, torna a casa un soldatino. La licenza è breve assai, e perciò non sosta mai. La licenza è breve assai, e perciò non sosta mai. La licenza è breve assai, e perciò non sosta mai. Datemi il vostro violino. E mia madre che mi aspetta? Non è certo la prima volta. È la mia fidanzata che aspetta il mio ritorno, ma la incontrerai fra qualche giorno. Ma dove state di casa? Mangiare bene a sazietà, essere servito da pascià. La vettura per il ritorno? Tarderai solo qualche giorno, e col libro che ti ho dato ti farei ricco fondato. Giuseppe, sgomento, vorrebbe fuggire. Ma non c'è modo. Si sono staccati da terra e filano attraverso l'aria, sopra campi e paesi. Quanto tempo è durato il viaggio? Chi lo sa. La licenza è breve assai, e perciò non sosta mai. E perciò non sosta mai. E perciò non sosta mai. Signora Checca, come state? Ma lei se ne va senza rispondere, non lo sente. Oh, Luigi, vecchio amico, qual piacere! Ma Luigi, caso strano, non risponde. Su, Luigi, che succede? Hai scordato? Non ricordi più, Giuseppe? Giuseppe, il soldato! Ecco la mamma. Appena lo scorge, questa scappa urlando. Che c'è gli elementi? Che c'è gli elementi. Che c'è gli elementi? Che c'è l'a chiamata? Che c'è gli elementi? E gli elementi. Non ricordi? Eli elementi? Non ricordi? Si… E gli elementi mi non riuscì. Mercante, mercante d'oggetti E poi non c'è più bisogno nemmeno delle cose Quando si è entrati nello spirito del commercio Si può avere tutto ciò che si vuole Basta volerlo e si ottengono tutte le cose della vita Le bambine giocavano al girotondo Si passava dietro a un muro Veniva una donna e ti dava un bicchiere di vino Ma ho voluto lasciarla fuori Grazie, grazie Per carità signore Tenete Lei mi vuol mortificare Il denaro me lo voglio guadagnare onestamente A costo di sgobbare Vado subito a prendere la borsa delle cose rare E ti? Non siete sposato e non avete a chi donare? Spero ugualmente di potervi accontentare Una medaglia vi può interessare? Una medaglia vi può interessare? Uno specchio? Un ritratto in cornice? Ah sì, ciò vi interessa quanto pare Ancora no E questo piccolo violino? Quanto? Quanto vi dico? Tra amici ci si intende facilmente Prima ve lo lascio provare Il prezzo vedremo poi di combinare Il prezzo vedremo poi di combinare Vi si ferma a avere un'ombra E intanto si mette a guardare Attraverso le finestre Prive di tende Attraverso le finestre Egli vede cadere le foglie Ad un tratto La piazza s'affolla Si sente Il rullare del tamburo La figlia del re è malata Le mangia, le dorme, le patta La piazza s'affolla La piazza s'affolla Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.